Sono Gianpaolo Caffi, lavoro per Wave&Co, mi occupo della parte tecnica, quindi sono responsabile tecnico di Wave&Co. Quest'anno qui al MIR 2019 presentiamo la nuova 4K Pro, che è una centralina 4K creata in collaborazione con Colorlight. Le novità principali sono, oltre a Scaler integrato, anche uno nuovo slot di ingresso, che si può vedere sul retro, con DisplayPort, HDMI 2.0 Loop, che è molto utile per eliminare gli splitter HDMI, e slot estraibili, quindi estraibili e intercambiabili con altri slot. Qui vediamo anche un VIO 4K, da quest'anno abbiamo una collaborazione, quindi siamo distributori di Analogway. Quest'anno presentiamo qui al MIR questa bellissima televisione touchscreen, è un schermo LED 1.3, sono 115,6 pollici touchscreen. Audio integrato, HDMI in ingresso, possibilità di controllo tramite telecomando infrarossi, e sistema Android all'interno, tutto inglobato all'interno della cornice touch. Questa zona presentiamo Analogway con il loro media server, il Pic2Roll. Qui si può vedere che la macchina, il Pic2Roll, sta uscendo con 8 contenuti in 4K, contemporaneamente. Entra all'interno del mixer grafico Aquilon, che elabora il tutto ed esce in combinazione con questo LED Wall. Naturalmente tutti i vantaggi del LED Wall, che sono neri, praticamente neri che sono assoluti, bianchi, molto luminosi, quindi una grande qualità video. Questo schermo ha tanti pixel, tanti pixel significa un sacco di cavi di rete, perché i LED Wall funzionano tutti con connettori di rete. In questo caso abbiamo una soluzione, un trasmettitore in fibra, quindi solo con queste due fibre si possono usare sia monomodali che multimodali, si possono trasmettere tutti questi segnali allo schermo risparmiando un sacco di caveria. Passando a installazioni fisse, molto come questa, una grossa particolarità, che è completamente smontabile, il powerbox dal fronte. Quindi mi si crea una grossa apertura che mi permette di andare a recuperare qualsiasi cosa, togliere qualsiasi modulo senza nessun problema. Sempre tutto inseribile, sempre tutto con una mano sto facendo, dall'altra sto tenendo il microfono. Ciao a tutti, ciao da Gian Paolo, ciao da Wave & Co. Vi aspettiamo al virtual show alle due e mezzo.